e ritorniamo in diretta su Radio Ina ancora ben trovati all'interno di Open Day Cinema come ogni martedì Ivan Scinardo e Diana Chiavetta staremo insieme ancora fino alle 11 abbiamo avuto un bellissimo collegamento con il festival Onda su Onda quindi abbiamo festeggiato la Radio Libera Italiana ma adesso torniamo a un altro ospite lo vedo già pronto eccolo, buongiorno Fabrizio buongiorno Fabrizio Ramonica ben arrivato su Radio Ina è un grande piacere averti con noi Fabrizio è un piacere mio partecipare vi ringrazio per l'invito in offline raccontavo un po' a Eliana il tuo stile, il tuo genere ma ovviamente abbiamo avuto una fonte io ho avuto una fonte confidenziale che è Ferdinando Cattuccio che mi ha raccontato ah la riveli? voglio rivelarla e voglio salutarlo voglio salutarlo assolutamente perché durante una nostra cena di Radio In mi ha raccontato di te mi ha raccontato dei tuoi film mi ha raccontato soprattutto le tue ambientazioni i tuoi luoghi naturali scelti perché tu stradori la natura e ambienti i tuoi film poco fa Andrea De Manincor che è uno dei protagonisti del film di Guglielmo Brancato semaforo rosso ci ha detto che era rimasto colpito da questa natura incredibile del Parco delle Madonie dove hanno girato il film ovviamente ti lascio adesso il microfono tu raccontaci le tue location la tua scrittura e poi vediamo il trailer di questo film gotico che è Dio non ti odia sì per quanto riguarda queste location come Ferdinando ha riferito correttamente io sono estremamente affascinato da tutto ciò che rappresenta la natura selvaggia quello il collegamento che si crea tra l'animo umano e l'anima naturale il fatto che l'uomo debba tornare in determinati contesti debba far uscire la propria natura e questo diciamo è anche un grande classico del cinema d'avventura in ambienti difficoltosi bisogna tirare fuori un po' la propria vera forza la propria bestialità e qua in Sicilia abbiamo di tutto nel senso che da un punto di vista di bellissimi paesaggi oggi non ci manca davvero niente perché abbiamo dei boschi sconfinati che sembrano veramente primordiali basti pensare al bosco della Ficuzza che se uno vuole inoltrarsi al di là delle aree attrezzate che sono quelle più conosciute ci sono degli angoli, degli scorci pazzeschi con torrenti, pareti di fango, gallerie insomma si può veramente trovare di tutto poi una location che utilizzo anche molto è la grotta Mazzamunto di Altavilla Milice che è una grotta veramente bellissima assolutamente sicura e anche magari poco conosciuta però ha un grande e forte impianto scenico però ripeto, girando poi noi nei vari anni nei vari progetti che abbiamo realizzato abbiamo trovato tantissimi bellissimi posti abbiamo trovato delle cascate dopo Bolognetta che sono veramente bellissime quindi si può veramente dare tanto da un punto di vista paesaggistico cioè la nostra Sicilia da tantissimo da un punto di vista paesaggistico Senti Fabrizio, ho una curiosità tecnica mi affascina molto questo racconto le location incidono sulla scrittura dei tuoi lavori Sì, incidono sulla scrittura dei miei lavori perché Cioè ti lasci condizionare dai luoghi per ambientare appunto i tuoi film No, non credo sia una questione di condizionare Io giro dei film che vorrei tanto vedere al cinema nel senso che quando anche io vedo la locandina di un film che già intravedo un bosco un paesaggio naturale ho la voglia di andare a guardarlo quindi ho proprio questa tendenza a un po' amo queste cose qui quindi non so quanto influisca Chiaramente, dato che noi lavoriamo con dei budget siamo autofinanziati con la nostra società che è Calama Film è chiaro che è più semplice andare a lavorare in dei paesaggi naturali anziché andare ad affittare determinate location che potrebbe essere più complesso ovviamente però io non credo che se mi arrivasse un enorme budget abbandonerei su questo quindi No Fabrizio su questo merita questo argomento merita un grande approfondimento perché ti vogliamo come testimone di di un'idea di un concept che è quello che non è vero che per fare il cinema tu devi avere grandi risorse infatti quando ci siamo sentiti più volte a telefono tu mi hai detto guarda Ivan io realizzo i miei film proprio con i rimborsi spese c'è ci mangiamo il panino ma c'è una idea forte c'è una scrittura forte io penso questo una buona scrittura non costa denaro costa talento bravo se uno ha quel talento che si sviluppa anche con la pratica è possibile realizzare con poche migliaia di euro dei prodotti che sembrano anche molto più costosi ma devi avere un'idea vincente è chiaro che se la tua idea è quella di realizzare un fantasy con draghi cavalieri castelli e guerre non puoi farlo le cose si complicano un po' ti può aiutare il green screen quindi i web fakes ma fino a un certo punto rischi anche di poi risultare ridicolo mentre tu puoi sempre realizzare un fantasy ma puoi realizzarlo con tre quattro personaggi magari sono feriti che stanno arrivando da una battaglia quindi tu la battaglia non la mostri loro sono feriti e magari la creatura che vuoi mostrare non è un drago ma è una strega lo punti un po' più sull'horror insomma con la scrittura intelligente tu puoi puoi eludere il problema del budget che è comunque un problema che rimane sempre da un punto di vista tecnico ci saranno comunque delle limitazioni è chiaro che se tu vedi uno dei miei film e poi vai a vedere un film di James Cameron c'è un abisso da un punto di vista tecnico però da un punto di vista ma è solo perché ha qualche anno in più di te solo perché ha qualche anno in più di te Fabrizio datti tempo no ma poi ci facciamo raccontare da Fabrizio quando ritorniamo poi da Facebook vediamo un assaggio del suo cinema ma ci facciamo raccontare del suo canto delle sirene ad andare a lavorare fuori poi questo dopo la clip intanto vediamo il trailer di Dio non ti odia i figli sono il dono più grande che Dio possa farci l'Onnipotente vi ha messo alla prova e voi l'avete superata l'onnipotente di Dio Grazie a tutti. 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 In primis Ferdinando che conoscete, che ho conosciuto ormai vari anni fa, abbiamo legato subito, quindi abbiamo creato un rapporto di amicizia e un rapporto lavorativo. Ferdinando come ha altri, sì, Roberto Romano, che è diventato un po' anche lui un attore feticcio, ma altri, insomma, sono veramente tanti, quindi fare un elenco di nomi adesso non è il caso. Loro sanno a chi mi sto riferendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi questi miei ideali un po' li fanno anche loro e si crea questa sinergia, questa forza e si fatica poi tutti insieme. C'è anche una grande fiducia per ogni progetto che parte, magari qualcosa può non convincerli, però ormai mi conoscono bene e fanno ok. Fabrizio comunque conosce il quadro completo, lui sa quello che dobbiamo fare e noi lo seguiamo. Raccontiamo anche alla radio le parole di Fabrizio e la Monica così tornati all'interno di Open Day Cinema. Appena è terminato un brano per chi ci sta ascoltando, dice ma di che stanno parlando? C'era la musica. Voi in qualunque momento potete ritrovare i video integrali di quello che accade nel corso delle nostre trasmissioni su Facebook. Fabrizio, tu hai un gruppo che ti segue ciecamente e che è anche la tua forza. E che si fida ovviamente. C'è stima, c'è fiducia, sono elementi fondamentali in un gruppo di lavoro. È stata costruita questa stima, è stata costruita questa fiducia nel tempo e nei vari progetti che abbiamo realizzato insieme. La cosa bella è che siamo diventati tutti degli amici e questa è una cosa fondamentale. È vero. Come dicevo, soli non si può far nulla e io sono abbastanza fortunato perché lavoro con amici, sono degli amici che per me fanno anche dei sacrifici per il mio sogno che diventa anche il loro. Quindi si ha una visione comune, un obiettivo comune che ci rende forti. Senti Fabrizio, ieri mi raccontavi a telefono che appunto il film, il cui trailer abbiamo fatto vedere pochi istanti fa, diciamo rispetto ad oggi, ovviamente vorresti cambiare tante cose ma lo consideri un tuo figlio. Vorrei tanto parlare di questo lavoro che hai realizzato lo scorso anno, questo thriller psicologico che è Il buio del giorno, che ti ha permesso di conoscere un gigante del cinema italiano e degli effetti, soprattutto in particolare che è Sergio Stivaletti. A proposito di Canto delle sirene, lui ti ha detto ma vieni a Roma a lavorare, e tu invece no, io voglio stare nella mia Palermo e investire qui il mio talento. Sì, non è soltanto una questione di investire il talento. In tanti mi hanno sempre detto Fabri ma se tu ti spostassi a Roma faresti dei passi molto più veloci, avresti molto più opportunità eccetera eccetera ed è un dato di fatto, però io l'altro giorno ho detto una frase durante un'altra intervista che mi è rimasta impressa, io sto lavorando il doppio per ottenere la metà del risultato, però perché penso ne valga assolutamente la pena? Perché la Sicilia è una terra un po' abbandonata a se stessa, è una terra a volte anche ingrata, però comunque è la terra dove sono nato, è una terra che amo da un punto di vista paesaggistico, è una terra dove vivono le persone che amo, quindi o che ho amato, quindi stiamo cercando di far qualcosa di grosso, di buono anche qui per dimostrare che si può fare qualcosa in Sicilia di forte, di attivo, non senza difficoltà, i primi risultati effettivi stiamo iniziando ad averli ora dopo tanti anni, però ci stiamo riuscendo. Poi non è indubbio che prima o poi anch'io andrò a Roma, eccetera, eccetera, ma vorrei che la base di Calama Film rimanga sempre la Sicilia e che venga sfruttata al massimo. È un messaggio, è una specie di messaggio. Quasi tutti i miei amici sono stati costretti ad andarsene, ad andare a cercare lavoro fuori, spesso non trovandolo, spesso non andando a fare quello per cui avevano studiato, eccetera, eccetera, quindi la situazione lo sappiamo qual è, c'è questa fuga, la cosiddetta fuga di cervelli, proprio in Sicilia particolarmente quasi tutti i miei amici se ne sono dovuti andare, quindi sto cercando di lanciare un messaggio. con impegno, un buon team che crede in te, anche un po' di fortuna, e chiaramente deve esserci del talento perché altrimenti rimani lì dove sei, si possono creare delle cose anche inimmaginabili alla base. Ci vuole tempo e molta dedizione. Stiamo cercando di dare alla Sicilia qualcosa. Tutto qui è semplice, è dura, ma è quello che vogliamo fare. Ma in tutto questo il fatto che Squid Games vi abbiano copiato il nome, ne vogliamo parlare? Ah, non ce l'avevo mai pensato. Come no? Questa figura di questo calamaro che diventa protagonista, il collegamento che avevo fatto su io nel mio mondo. La chiavetta stupisce sempre di più. Almeno chiede i diritti, ti dice guardate il calamaro l'ho usato prima io comunque e quindi... E come fai? Fabrizio, scusa. Se per questo a Bagheria, che è dove io vivo, di recente ho aperto un ristorante che si chiama Calama Ristorante. Posso fare pubblicità? Mi aspettavo, ha anche il fonte similissimo, mi sarei aspettato un invito a pranzo, sarei stato molto contento. Però non è ancora arrivato. Ma anche uno 0,1% degli incassi di Squid Game potrebbe andare bene. 0,01... Lanciamo un crowfunding, Fabrizio. Grazie Fabrizio e la Monica per essere stato con noi quest'oggi, qui all'interno di Open Day Cinema su Radio In. Grazie a voi, grazie mille. Fabrizio, complimenti davvero. Dai, non mollare mai, vai dritto per la strada e tieni alta l'autostima, questo è importante. Non abbatterti davanti alle difficoltà, non è il solito sermone, ma è davvero, lo dico di cuore. No, non puoi fare questo lavoro se ti abbassi... perché le difficoltà sono ovunque e perenni, quindi noi non ci arrendiamo e continuiamo. Abbiamo tante cose in serbo. Fantastico. Arrivederci. Ciao Fabrizio, grazie. Mi piace sempre di più questo ruolo di facilitatore, Eliana. Mi sento veramente con una generosità dentro, bella, spontanea, non è forzata. Solo che dobbiamo interrompere qui, perché abbiamo già superato...